Nelle scorse settimane il Movimento 5 Stelle tramite il suo portavoce in consiglio comunale Giovanni Magri aveva chiesto una maggiore chiarezza sui rimborsi da parte di Caltacqua, la società che si occupa del servizio idrico in città per quegli utenti che risiedono nelle zone cittadine non fornite dal servizio di depurazione. E adesso il Movimento 5 Stelle torna sul tema. Caltacqua in una nota specificava che l'operazione di rimborso sta proseguendo con regolarità in assoluta trasparenza senza alcun margine di discrezionalità e nei tempi e con le modalità pianificate. E ancora si legge, le procedure di rimborso relative all'utenza del Comune di Caltanissetta abbiate nel primo trimestre di quest'anno verranno ultimate entro il quarto trimestre. In quest'ultima tranche in particolare il rimborso sarà corrisposto a oltre 800 utenti. E poi ancora nella nota si fa riferimento all'operazione di mappatura di dettaglio delle utenze di particolari aree, un lavoro che gli operatori di Caltacqua hanno dovuto realizzare con un evidente conseguenziale considerevole impiego di tempo, si legge ancora, quasi porta a porta. In totale gli operai di Caltacqua hanno verificato più di 4.000 contratti. E la nota si conclude. Complessivamente sono 2.764 gli utenti aventi diritto al rimborso per un importo totale che supera abbondantemente i 900.000 euro. Si torna a parlare di questi rimborsi che sono importantissimi per i nostri cittadini, sono dovuti da parte di Caltacqua. Volevo fare un brevissimo escursus in modo da spiegare una volta per tutte quello che è accaduto. Più di due anni fa noi abbiamo fatto una interrogazione come Movimento 5 Stelle dove il sottoscritto poneva delle domande ben precise e diceva come mai questi cittadini che non usufruiscono del canone di depurazione e stanno pagando questo canone. Da quel momento, grazie anche all'assessore Passorello che si è interessato velocemente di questa problematica, siamo riusciti a sbloccare questi rimborsi. Quindi adesso Caltacqua ci informa che fino a oggi è rimborsato 900.000 euro, di questo noi siamo felici, però ancora non c'è trasparenza in questa operazione. Caltacqua ancora dopo tutto questo tempo non si capisce perché non dice ai cittadini quali sono le vie effettive che deve ancora rimborsare e quali no. Questo spetta a Caltacqua, non è che spetta a noi o al singolo cittadino andare a indagare. Quindi questo è già un fatto importante dove dobbiamo fare trasparenza perché Caltacqua attraverso il suo sito ufficiale, attraverso gli uffici, deve fare una divisione della città dove spiegare semplicemente chi deve ancora essere rimborsato e chi non lo deve. Volevo anche aggiungere comunque che chi deve stare vigile su tutta questa situazione è il nostro sindaco, è il nostro sindaco che dovrebbe accertare se ci sono inadembienze, se ci sono irresponsabilità e questo purtroppo non è stato fatto. Quindi speriamo che una volta per tutte il nostro sindaco abbia la fermezza di intervenire su un argomento e su un problema così importante per la nostra città e per i nostri cittadini.